Rendersi conto per rendere conto è questo uno degli obiettivi che la CGL ha assunto nel 2008 nel corso della sua ultima conferenza d'organizzazione, quando ha scelto di intraprendere un percorso di rendicontazione sociale. Per mettere in campo una prima valutazione dell'esperienza accumulata in questi anni, la CGL ha promosso un seminario nazionale. Sì, il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione, quindi come tutti i bilanci dà conto dei risultati dell'agire dell'organizzazione. Essendo l'organizzazione un'associazione di rappresentanza come la CGL, nella rendicontazione trova la possibilità di comunicare in maniera chiara quali sono le sue politiche, le sue scelte prioritarie e rispetto a queste come sono state allocate alle risorse, quali sono state le attività che svolge in nome della sua missione di tutela e promozione dei diritti e dei bisogni dei lavoratori, delle persone, dei migranti, degli anziani di questo Paese e quindi poter appunto far conoscere i risultati e i cambiamenti che grazie alle sue scelte è riuscita a produrre sul tessuto del nostro Paese. Un numero sempre più crescente di Camere del Lavoro, Confederazioni Regionali e Categorie Nazionali hanno deciso in questi anni di percorrere il cammino della rendicontazione sociale, un dovere istituzionale, spiega la CGL, per dare conto a tutti coloro che rappresenta della sua visione, delle sue scelte e dei risultati ottenuti. Intanto una maggiore trasparenza nella funzione di rappresentanza. Noi abbiamo iniziato questo percorso del bilancio sociale da quattro anni, dal 2007, con un'idea di estendere questo metodo di rendicontazione sociale a tutte le nostre strutture. Abbiamo organizzato dei seminari sui precari, neodistaccati, in maniera tale da dare consapevolezza all'intera organizzazione del bilancio sociale come un riferimento fondamentale per migliorare la capacità di rappresentanza in una categoria che è obiettivamente complessa. È stata un'esperienza e un'esperienza positiva perché ci ha consentito, almeno finora, di centrare gli obiettivi principali che ce l'avamo posti. Primo fra tutti quello di rendere più leggibile all'esterno il quadro complessivo delle nostre attività. È un obiettivo che abbiamo a mio avviso già conseguito, nel senso che ci ha consentito, da un lato, di ripuntualizzare anche per questa via i processi di riorganizzazione interna della struttura nazionale, che ci ha consentito di tradurre quella stessa riflessione in una finestra verso l'esterno che sarà rappresentata dalla messa in rete del nostro nuovo sito prevista per i primi mesi dell'anno prossimo, che ripercorrerà nelle sue dinamiche proprio di esplicazione all'esterno di ciò che facciamo il ragionamento che abbiamo costruito nella definizione del bilancio sociale. Terzo, ha avviato un processo che ci consente di esercitare quando andrà al regime in maniera più piena e consapevole il ruolo di indirizzo e controllo sul complesso delle strutture filiane nel territorio, che a loro volta, avviando l'esperienza del bilancio sociale in maniera sperimentale, intanto in dieci territori e progressivamente estendendola agli altri, ci consentirà di avere un bilancio consolidato in termini sociali ma anche organizzativi ed economici. e abbiamo subito provato a dirci e a dire quali erano le cose che per noi il bilancio sociale non doveva essere e che cosa invece doveva essere. Non doveva essere una moda, non doveva essere un'operazione semplicemente di immagine oppure, peggio ancora, un modo per mettere in politica comportamenti e azioni non propriamente convincenti e non coerenti con l'obiettivo associativo, ma invece doveva essere l'inizio di una rete di maggior trasparenza ed efficacia, di valutazione delle nostre azioni all'interno nostro ma anche offerta all'esterno. Naturalmente questo è un percorso che per noi inizia oggi e non può altro che continuare e consolidarsi nella prassi dell'organizzazione avendo l'obiettivo di creare una vera e propria rete in tutta la Lombardia di bilanci sociali per tutte le strutture, per un'analisi interna che ripeto diventa patrimonio di discussione e di valutazione anche all'esterno con i nostri interlocutori primari e principali. La Filcams ha aderito al progetto della CGL nazionale perché ritiene che questa sia una scelta coerente con quella che è la sfida che oggi la CGL e la categoria in particolar modo lancia al Paese, alle imprese e cioè mettere in connessione tra loro le risorse di cui disponiamo con gli obiettivi che vogliamo perseguire e cioè con la missione. E lo facciamo rappresentando quelle che sono le caratteristiche di questo mondo, la precarietà del lavoro, un mondo molto giovanile che rischia di non avere futuro e che chiede alla CGL la capacità di ripensare quelle che sono pratiche e scelte consolidate nel tempo a partire proprio da una redistribuzione delle risorse umane e finanziarie che deve sempre più guardare alla parte del lavoro più debole e meno rappresentata.